Messa in sicurezza del cratere conseguente la frana del 5 e 6 novembre 2017. Il comune di Angri lo scorso 1 febbraio trasmetteva l'istanza per i contributi di interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio al Ministero dell'Interno. Finanziamenti necessari soprattutto per la sistemazione idraulico-forestale del torrente Alveo Sant'Alfonso per il triennio 2023-2026. L'ente di piazza Crucifisso in tale occasione aveva chiesto un importo di 1.370.000 euro per la messa in sicurezza dell'Alveo, diventato area a forte rischio idrogeologico, in seguito proprio alla frana che la notte del 6 novembre 2017 si riversò sulle strade cittadine. Ad oggi risulta che la richiesta sia stata ammessa nella graduatoria del finanziamento. Interventi necessari anche perché rispetto a quanto promesso dall'amministrazione Ferraioli nessuno intervento di mitigazione di messa in sicurezza è stato mai effettuato. Lo scorso anno il consorzio di bonifica sollecitava con una nota il comune di Angria a rispettare i termini dell'accordo in programma per la progettazione degli interventi di mitigazione, sistemazione, ripristino al rispetto dell'osservanza dell'accordo e al rinnovo della scadenza temporale per dare urgente seguito ai lavori di mitigazione dell'alleo. Nell'accordo stipulato e avvallato mediante deliberazione l'ente comunale doveva farsi carico della nomina del responsabile del procedimento, dei rilievi topografici e le consulenze geologiche necessarie alla progettazione degli interventi. Ma oltre a presentare distanza di finanziamento l'amministrazione Ferraioli non avrebbe attuato nessuna procedura per favorire la messa in sicurezza complessiva dell'area pedemontana.